Ciao a tutti, siamo finalmente tornati in Italia, tornati a casa. E cosa c'è di più casa Italia di un buon piatto di pasta? Nino, guarda che lavoretta la nostra mamma che ci ha fatto. Che godurio, tornati in Italia. Grazie chef. E domani sera, oltre a questo fantastico pranzo con la mia chef privata, e il colino, domani sera parteciperà una cena con alcuni amici e colleghi nel quale si celebrerà la scarpetta. Perché appunto questa pasta, vedi come raccoglie bene il sugo, vedi? Eccolo lì, wow. Vi lascio un piccolo sondaggio, voi scarpetta sì o scarpetta no? Molto attenti a quello che rispondete perché potreste uscire subito dalla lista dei miei followers. E quindi niente, ci rivediamo domani e rimangeremo un po' di buonissima pasta. E noi metteremo i video di Gnatio che fa la pasta. Al prossimo, ciao!